Ripresa degli allenamenti per l'Udinese di Gigi De Canio, una ripresa degli allenamenti ovviamente con un grandissimo sorriso sulle labbra anche se ovviamente bisogna continuare a fare risultati, dare continuità a un periodo sicuramente positivo per la formazione bianconera dall'avvento del nuovo mister, sono stati quattro i punti conquistati dall'Udinese contro due squadre molto difficili contro il Sassuolo, settima forza del campionato, un pareggio che poteva anche essere una vittoria e la vittoria splendida davvero senza repliche al di là di ogni polemica che c'è stata sull'espulsione di Guain, sull'atteggiamento dell'arbitro che comunque sottolineiamo ancora una volta ha fatto una buonissima prestazione, unico vero errore forse non dimenticato anche dalle critiche e dalle moviole di tutte le tv è la mancata espulsione di Coulibaly ma poco importa perché l'Udinese ormai l'ha messa già alle spalle questa vittoria ha festeggiato tanto, i giocatori hanno ringraziato compagni, squadra, allenatore e ovviamente anche tifosi sui social network non hanno presa bene i tifosi napoletani però ovviamente si guarderà avanti è stato proprio questo il monito di De Canio, la festa, il clima un po' più leggero è durato fino al termine del Torello la prima cosa che ha fatto la squadra una volta arrivata qui sui campi del Bruseschi dopo una visione di video all'interno della sala, proiezione video e dopo una fase di attivazione in palestra è venuta qui Torello, da lì in poi una volta consegnati i palloni ai giocatori per il riscaldamento tecnico De Canio è stato chiarissimo, adesso massima serietà, massima concentrazione, pensiero all'allenamento, pensiero alla Sampdoria perché ovviamente battere il Napoli e non dare continuità equivalrebbe praticamente a non aver fatto nulla questo vuole far passare come messaggio Gigi De Canio perché a Genova sarà una partita assolutamente molto difficile non c'erano alcuni elementi che hanno giocato la partita contro il Napoli da titolare come il portiere Carnezis, ad allenarsi non c'era il greco che è rimasto per un programmato differenziato in palestra così come Badu, Badu che era uscito acciaccato e non poco dalla partita contro il Napoli c'era invece Kuzmanovic e soprattutto c'era Duan Zapata che quindi è stato vittima soltanto di crampi nulla di grave per il colombiano che ci aveva un po' fatto spaventare cadendo a terra da solo nella partita contro il Napoli quindi si candida ancora una volta ad essere titolare insieme a Terro nell'attacco che ci sarà anche contro la Sampdoria non ci sarà Bruno Fernandes, è arrivato il comunicato del giudice sportivo, sarà squalificato per un turno ma lo si sapeva, vedremo chi lo sostituirà, se rientrerà Alfredson oppure se verrà fatta una scelta più offensiva con Matos o magari più suggestiva con Andrea Balic ci sono tante le carte e le frecce all'arco di De Canio per quanto riguarda invece la situazione legata a Totò di Natale il capitano non è sceso ad allenarsi con i compagni per lui personalizzato mentre Domizzi si è riaggregato al gruppo e ha partecipato all'intera seduta insieme ai suoi compagni mancava ovviamente anche ancora l'indisponibile lungodeggente Guilherme per lui ancora terapie per recuperare dall'infortunio oggi è una giornata particolare per lui oltre che per il sottoscritto il compleanno quindi per Guilherme il compleanno di 25 anni festeggiato oggi purtroppo festeggiato non lavorando ma tutto il resto del gruppo è pronto già praticamente ad affrontare la Sampdoria